Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Come state? Spero siete bene Allora ragazzi, questa qui, che oggi andremo a fare in questo video È una nuova serie Ragazzi scusatemi se tengo il microfono così ma non ho dove appoggiarlo Quindi pazienza, dovrò tenerlo in mano Il microfono In questa serie allora ragazzi, vi spiego brevemente La faremo intanto con qualsiasi squadra Ovviamente partiremo dalla serie A E ovviamente partiremo dalla prima in classifica Come potete vedere oggi ragazzi Mi dispiace metterlo qua, mi sta avvenendo un malore Ma devo farlo per forza, scherzando Partiremo appunto col Milan che in questo momento è la prima in classifica Questa serie si baserà appunto come se stessimo su FIFA Facendo delle trattative come se stessimo facendo una carriera allenatore qualsiasi Praticamente diremo le cessioni Con i soldi ricavati dalle cessioni Ovviamente ragazzi i giocatori verranno venduti in base al loro valore Ragazzi perché non è che posso sapere a quanto vengono venduti Quindi a noi rientrerà il valore del calciatore Ovviamente ci terremo giocatori Ci terremo quelli che secondo noi sono i giocatori più forti E ovviamente poi andremo a fare una squadra La squadra che secondo noi sarebbe la squadra più forte Comunque la squadra che migliore che con le cessioni il Milan possa avere Ovviamente nella formazione ragazzi bisogna tenere almeno un giovanissimo Stiamo parlando di almeno un under 21, under 22, non di più Allora ragazzi io ho guardato un po' la formazione del Milan Ho qui tutto il fogliotto ragazzi, ho fatto un po' uno schema E adesso ragazzi partiamo con le cessioni Con le cessioni Allora ragazzi ho deciso di Per quanto riguarda i portieri Vendere Mirante Che ragazzi è comunque il più vecchio E ho deciso di tenere Magnan come primo E Tatarugianu come secondo Ricavando da Mirante ben 500.000 euro Poi mi vendo ragazzi Romagnoli Però ragazzi io ripeto quando faccio le squadre anche su FIFA Punto molto sui giovani Quindi di conseguenza vendo anche Come divenzione centrale vendo Romagnoli Da cui ricavo 20 milioni Ripeto ragazzi questi sono i valori che spuntano su Transfer Market Quindi non cominciate a dire Ah ma quello che ho visto ragazzi ho scritto qui Kier per 8 milioni Ho venduto anche Poi vendo Calabria per 25 milioni Florenzi per 7 milioni Bakayoko per 13 milioni Chessi per 45 milioni ragazzi Krunic per 7 milioni e mezzo Rebic per 22 Salemakers per 20 milioni Messias per 6 milioni e mezzo Castiglieco per 4 milioni e mezzo E Giroux per 2 milioni e mezzo Questi ragazzi sono i giocatori che io venderei se fossi appunto la società del Milan Ovviamente ragazzi fatemi sapere anche voi con un commento cosa ne pensate Chi avreste venduto Chi soprattutto comprereste nel vostro 11 dei sogni del Milan E ragazzi da queste cessioni ovviamente ho fatto il calcolo E ci ricaveremo La modica cifra di 181 milioni e mezzo Ovviamente ragazzi vi dico anche chi tengo Tengo Maignan Tatarujano ragazzi che farebbe il secondo Tomori Gabbia Teo Hernandez Balloture Calulu Tonali Ben Nacer Brian Diaz Maldini Leao Zlatan E Lazedic ragazzi Questi sono i giocatori che io in caso di trasferimenti terrei al Milan Perché ragazzi hanno messo i giocatori molto forti Adesso ragazzi però Con i soldi che ci siamo fatti Dobbiamo andarci a fare la squadra Partiamo ragazzi Io come modulo non so se è il modulo che per adesso usa il Milan Ma penso di sì Ho usato un 4-2-3-1 Partiamo dalla porta Allora ragazzi Decido di Tenere maignan Perché secondo me ragazzi è Cioè non puoi vendere maignan Terzino sinistro ragazzi Decido di Tenere Teo Hernandez Difensore centrale Mi tengo Tomori ragazzi Quindi non posso Levare Tomori Decido ragazzi di Perché ve l'ho detto ragazzi Che abbiamo bisogno di Un under 22 a tenere Non so Tonali quanti anni abbia Però ragazzi Decido di mettere in difesa Calulu Ragazzi perché Io stravello per Calulu Non so se i milanisti La pensano come me Però da quando soprattutto Si è infortunato Kier Che ha dovuto giocare ragazzi A me piace un botto Di solito lui fa il terzino Ma secondo me ragazzi Per adesso sta facendo il centrale Sta facendo molto bene Quindi decido di Tenerlo Centrale Poi Un attimo solo ragazzi Perché sto cercando i giocatori Che poi Ho Ho preso Ok Terzino destro ragazzi Decido di Prendere Le ho scritti qui Van Bissaka ragazzi Del Manchester United Che secondo me È veramente Molto 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 forte Centrocampo Con Allora Centrocampo con Ragazzi ovviamente Centrocampo a due Centrocampo a due Dove cito ragazzi Di tenere Tonali E Ben Nasser Ragazzi Ben Nasser ha da un po' Che Non fa bene al Milan Ma secondo me È un buonissimo Centrocampista Poi ragazzi Il Bayot non era Chissà quanto E secondo me ragazzi Ce l'ha da fare L'attacco Adesso io secondo me Verrò criticato In una scelta che ho fatto Però Adesso ci arriviamo Quindi il centrocampo Rimane così Praticamente ragazzi Dal centrocampo in giù L'unico acquisto Che abbiamo fatto È stato Van Bissaka Quindi ragazzi Praticamente Adesso capite Dov'è che Ho fatto degli acquisti Il COC Quindi la seconda Chiamiamo la seconda punta C'è il C Che sta dietro l'attaccante Decido di prendere Di Bala ragazzi Di Bala Che per esempio È stato accostato all'Inter È stato accostato però Anche al Milan Quindi ragazzi Per rendere anche la cosa Un po' più realistica Ho deciso di prenderlo Ovviamente Transfer Market Valuta Di Bala 40 milioni Quindi altri 40 milioni Più 30 Quindi 70 milioni Tra Di Bala E Van Bissaka Che ci scendono Passiamo ragazzi All'ala destra Dalla destra ragazzi Che è un giocatore Giovanissimo Che ragazzi Però io stravedo Per lui Non vuole neanche Chissà quanto Ragazzi Ma ripeto Io stravedo Per questo ragazzo Stravedo Che è appunto Ragazzi Jeremie Doku Belga ragazzi Giovanissimo Che va Della bellezza Di 22 milioni Ragazzi Io stravedo Stravedo Per Doku Doku O Doku Non so come si legge Decido di prenderlo Alla sinistra ragazzi Alla sinistra Il Milan c'è a Leao Io l'ho anche tenuto Però ragazzi Io Ovviamente Devo anche basarmi Un minimo sulla panchina Non posso Perché potevo dire Benissimo ragazzi Che ne so Io in questo caso Ho Tolto Leao Messo in panchina E ho comprato Un altro giocatore Ok Che adesso vi dico Però ovviamente Devo anche basarmi Sulla panchina Deve essere Un minimo reale Altrimenti ragazzi Mi vendo tutti Quelli più forti Mi faccio budget E mi faccio Tutto Tutta la squadra Però per essere Un po' più realistica Devo farmi Devo tenermi anche Una panchina Di un certo livello Siccome Leao ragazzi A me piace Però Quest'anno È costante Gli anni scorsi Non è stato molto costante Io se fossi Un Comunque Uno della città del Milan Penserei un po' Io in questo caso ragazzi Ho deciso di cambiarlo Ho deciso di cambiarlo Ragazzi Al suo posto Ho messo un giocatore Che è approdato Da quest'anno A Liverpool Che è ragazzi Luis Diaz Luis Diaz ragazzi Che è un giocatore Che è un giocatore Che a me già al porto Paceva tantissimo Ragazzi Tantissimo Mi piace tantissimo Velocità Dribbling Tecnica Tiro Qualsiasi cosa Ragazzi Molto tecnico Che vale la bellezza Di 45 milioni Ragazzi 45 milioni Che Continuano a scendere Dal nostro budget Ce ne restano Circa Una quarantina Ovviamente Ragazzi Chi abbiamo cambiato È stata la punta La punta ragazzi Che ovviamente Sappiamo Al Milan Per adesso c'è Giroud Ibra Lazetic Però ragazzi Sono giocatori che Il prossimo anno Il Milan dovrebbe Comunque cambiare Assolutamente E ragazzi L'ultimo Tassello Di questa formazione È ragazzi Non poco di meno Che Timo Werner Ragazzi Timo Werner Del Chelsea Che va a chiudere Questo nostro Undici titolare Con un'ottima Panchina Comunque Perché abbiamo Lazetic Leao Maldini Brahim Diaz Ragazzi Che l'abbiamo tenuto In panchina Quindi ragazzi Uno squadrone Ragazzi Che ripeto Il Milan Vendendosi Tanti giocatori Che secondo me Tra virgolette Sono inutili A parte qualcuno Che magari Ho dovuto sacrificare Per l'età Ci sono giocatori Che secondo me Sono un po' troppo Superflui In questo Milan E che secondo me Ragazzi Vendendo Determinati giocatori Può farsi Veramente uno squadrone E secondo me Questo è L'undici Da sogno Se io fossi ragazzi Un milanista Ovviamente Fatemi sapere ragazzi Se questa serie vi piace Ovviamente questo è il primo episodio Farò per ordine di classifica Quindi il prossimo episodio Il prossimo episodio Sarà o con il Napoli O con l'Inter Non cambierà nulla Perché uno lo farò prima O uno lo farò dopo Ovviamente ragazzi Se questo tipo di serie Vi è piaciuta E vi piace Ragazzi Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Attivando la campanellina E ovviamente ragazzi In descrizione vi lascio Tutti i miei preferiti social E niente ragazzi Ci vediamo Con un prossimo video Bella Ciao Ciao